Due mesi fa siamo stati ospiti di Roberto, il proprietario di questa struttura meravigliosa che purtroppo è stata colpita e quindi siamo particolarmente vicini a lui e a tutti quelli che sono stati coinvolti in questo evento che è successo sono ovviamente molto molto spiacevoli, contentissimi per tutti quelli che sono stati salvati in particolar modo per questi bambini e ovviamente molto amareggiati per le notizie negative che ovviamente arrivano. Ha senso giocare secondo te? Ma ha senso giocare, purtroppo di eventi negativi al mondo ce ne sono veramente tanti e tutti i giorni se per ogni evento negativo si deve fermare il mondo non avrebbe nulla più senso perché sarebbe sempre fermo quindi siamo consapevoli che l'aria che si respira in questo momento soprattutto nel nostro Abruzzo è un'aria negativa però la vita deve andare avanti sempre tenendo ben presente quello che succede e tenendo presente che il nostro è un gioco e invece quello che succede non è un gioco anzi è qualcosa di veramente spiacevole. Mi aspetto un sassolo equilibrato perché è una squadra equilibrata, una squadra che gioca bene al calcio che ha un'idea di gioco, una propria identità e prova a fare la partita quando c'è la possibilità e al contempo è una squadra che sa anche difendersi molto bene quindi credo che sarà un sassolo equilibrato. Marcello è prontissimo il mister Donatelli è la mia spalla, il mio braccio, la mia mente, tutto perché è un ragazzo veramente in gamba l'altra volta era tutto preoccupato di me no ma come si fa adesso e io ho detto ma tu stai sereno tanto cioè quando si ha un secondo è perché si ha fiducia in lui e io ho la massima fiducia in lui quindi lui andrà in panchina e prenderà le sue decisioni. La classe arbitrale è quella che decide quindi va bene probabilmente avremmo sbagliato anche noi sicuramente ho sbagliato anch'io però in quei momenti va anche capito un attimino mi è sembrato un po' troppo, no mi è sembrato un po' troppo, un po' tutto esagerato no no ma quando capita che un allenatore offende un arbitro, un guardialine, un quarto uomo è giusto che venga cacciato ma in quel caso io non ho offeso nessuno quindi non vedo perché, mi sembra un po' troppo eccessivo